Ho introdotto la setuta dicendo che per questo piano straordinario di investimenti, opere pubbliche, lavori pubblici, manutenzione del territorio e taglio delle tasse, è chiaro che occorrerà ridiscutere con l'Europa alcuni vincoli europei in base ai quali, se noi fossimo costretti a sottostare, evidentemente nulla di tutto quello di cui ci stiamo parlando da tre ore sarebbe possibile. E mi sembra che a parte di tutti ci sia la volontà di un confronto serio, ripeto non per spesa corrente o per mance, ma per investimenti, taglio delle tasse e opere pubbliche che evidentemente meritano una ridiscussione dei vincoli europei che stanti così le cose non permettono nulla di tutto quello che ci stiamo dicendo. Grazie.